Gentili telespettatori, buona giornata. Rassegna stampa di oggi lunedì 29 aprile 2024, Corriere della Sera. Meloni si candida, votate, Giorgia. L'invito a scrivere sulla scheda soltanto il nome. Salvini, Blinda, Vannacci, domani saranno insieme sul palco la premier capolista all'Europea e in tutte le circoscrizioni. Schlein ormai è fuori dalla realtà. Il Papa e i giovani, alzatevi, non restate sul divano. E poi, tutti in piedi per Berlinguer, l'omaggio al leader del Partito Comunista italiano. E poi vediamo Franco Di Mare, non respiro, sto morendo. E la RAI, dice, vergognosa, non risponde neanche alle mie email. Campus Gaza, perché non sarà un altro 68, e poi vediamo la festa dei 300.000 all'Inter Colora Milano. Scudetto, la parata della squadra da San Siro al Duomo. Andiamo adesso a vedere la Repubblica, che titola duello per l'Europa. Parla parte della campagna di Fratelli d'Italia, Schlein, premier fuori dalla realtà, noi saremo in ospedali e fabbriche. E poi vediamo Disagio giovanile, a scuola i racconti di ragazzi e prof. Più sbarchi al nord, i paradossi della lotta alle ONG. E poi vediamo il Papa, Venezia può sparire. Curiamola. Marea nero-azzurra, che festeggia tra mucche e trattori. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che titola oggi, vediamo, dichiarazioni bonus a 80 miliardi dai lavori in casa alle spese mediche. E poi così la denatalità taglia il futuro dell'Italia. Andiamo a vedere adesso la stampa, che titola Piantedosi, proteste no a leggi speciali, l'intervista al ministro dell'interno, corteo al G7 di Torino. I pro-Palestina bruciano le foto della leader, Meloni. E poi i boss si telefonano dalle carceri. La denuncia del procuratore Gratteri. Sulla scheda scrivete, Giorgia, Salvini domani sul palco con Vannacci, la russa attacca, il generale dice solo sciocchezze, Meloni si candida alle europee, mandiamo la sinistra all'opposizione, Schlein, discorso fuori dalla realtà. E poi verso il primo maggio, mal pagato e precario, per salvare il lavoro serve un nuovo patto tra scuola ed imprese. E poi vediamo, tradito dalla Rai, io l'ultimo supestite dell'Eternit. Beh, pensare che l'azienda dove si ha lavorato abbia dei riguardi per te non è propriamente così. E poi, perché l'azienda è un'azienda formata da persone che cambiano, quindi l'azienda non è che ha un cuore, un'anima. Quindi, pensare che l'azienda, quando poi sei malato, ti stia vicino, l'azienda non è una persona. Insomma, discorso un po' lungo. Comunque, andiamo a vedere il potere degli algoritmi, non abbiamo capito nulla. E Musk, la missione in Cina per salvare il suo impero. Andiamo a vedere adesso il resto del Carlino, che titola Meloni in campo, la doppia sfida, la Premier da Pescara, scrivete Giorgia sulla scheda, batteremo la sinistra anche in Europa. Schlein ha perso il contatto con la realtà, la Lega Blinda vannacci, Salvini non va alla Kermess di Fratelli d'Italia. L'intervista a Rosato di azione, appello a Forza Italia ed M contro i populisti. E poi, la platea Fratelli d'Italia rende omaggio a Berlinguer. E poi, a 88 anni, sogno la pace come i giovani. Andiamo adesso a vedere il fatto quotidiano che titola Villa Sant'Anché, abusi e intestazioni al figlio, che lì è un fantasma. E poi scrivete solo Giorgia per farvi fregare meglio. Candidatura truffa non andrà in Europa, come Schlein, Tajani e ora pure Calenda. E l'Italia è l'unico paese in Europa dove i capi politici truffano gli elettori candidandosi alle europee. E poi vediamo così l'economia di Israele ha sfruttato e ha sfruttato la Palestina, il fatto economico. Andiamo a vedere adesso il messaggero che titola oggi, vediamo se si apre la pagina, Meloni e la sfida in Europa, scrivete Giorgia. Perché scrivete Giorgia? Perché Meloni ha fatto registrare il suo nome come Giorgia Meloni detta Giorgia. In modo che scrivendo solo Giorgia il voto è valido, è come se avesse scritto Giorgia Meloni. È un po' come Elena Edel Schlein detta Ellie, scrivendo solo Ellie il voto è per Schlein. Vabbè, comunque, lavoro bonus per chi assume, decreto in CDM, sgravi contributivi totali per due anni sui contratti giovani donne al sud, voucher e incentivi perché si mette in proprio, fondi Unione Europea, riforma e controlli sulle regioni, sgomberi più facili se l'abusivo pesa sui servizi pubblici. E poi la Roma si aggrappa ad Abraham Goal. Andiamo adesso a vedere la verità che ci racconta. Giorgia si candida in Europa, cambiamo case e auto green. Il premier primo in ogni circoscrizione, a pescare il capo di Fratelli d'Italia, lancia il programma per Bruxelles, passare dalla fase di contenimento delle direttive imposte dai socialisti al ruolo di traino per l'industria. Fermeremo tutte le norme che ci impoveriscono. Salvini Blinda-Vannacci, un paralimpico, polemiche, il generale ha ragione. Fazio arriva buon, ultimo a incensare Scurati, io non faccio la vittima e poi la fa. E poi dai dati, dai documenti, come dice Travaglio, si è scoperto definitivamente che la RAI non aveva censurato Scurati. C'era stata una sorta di proposta, tu vai lì, pubblicizzi il tuo libro e come sempre succede quando si pubblicizza il proprio libro non si viene pagati. Quindi sono i documenti che ha potuto visionare Travaglio del Fatto Quotidiano e la verità è un'altra da quella che anch'io vi ho raccontato nei giorni scorsi perché non si sapeva esattamente i documenti. Oggi si sa che Scurati non è stato censurato ma sta facendo la scena madre per vendere più libri. Da maggio incentivi del 120%, chi assume il super bonus per chi assume con i 4 miliardi stanziati in manovra? Il CDM confermerà il taglio IRPEF e varierà le super deduzioni per le aziende che creano lavoro. Risparmi superiori ai costi, ancora in forza il bonus sulle tredicesime. Andiamo adesso a vedere il giornale che titola Meloni alza la posta, cambieremo anche l'Europa, la svolta sulle schede scrivete Giorgia, la chermessa Pescara. Standing ovation di Fratelli d'Italia per Berlinguer in tributo alla memoria del tra virgolette nemico. E poi vediamo i finti 007 e l'auto di Gian Bruno. Due ladri sono spacciati per agenti segreti durante un tentato furto. In realtà non sembra proprio andata così. I due che il giornale definisce dei ladri si erano identificati con dei tesserini come colleghi degli agenti che li avevano identificati. Anche i servizi segreti li hanno identificati. Poi tutti retromarcia, non erano agenti segreti ma erano due balordi che volevano rubare la macchina. Qui qualcosa non torna e non si capisce perché il giornale parli di finti 007. Chissà qual è l'intento di questo giornale. In realtà qualcosa di inquietante è successo. E due giorni che ne parlo sul canale trovate i video. E poi vediamo Libero Quotidiano che titola La sfida alla sinistra, Giorgia chiede la fiducia, Meloni annuncia la candidatura all'europea, scrivete il mio nome sulla scheda, sono fiera che la gente mi chiami così, cioè Giorgia. Mandiamo i progressisti all'opposizione anche a Strasburgo. Mi chiamavano Pesciarola, loro sono colti. e poi Postura, Natura, il dizionario della Premier e poi andiamo a vedere, credo che sia l'ultimo giornale, sì era l'ultimo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.